Mancano 88 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Il numero porta fortuna è l'uno, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 ottobre del 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express, il mitico treno che univa Parigi a Costantinopoli, l'odierna Istanbul e che rimase operativo fino al 1977. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 4 ottobre ricordiamo il comico americano Buster Keaton, l'attrice americana Susan Sarandon. La citazione del giorno. Se potessimo cancellare l'io e il mio, dalla religione, dalla politica, dall'economia eccetera, saremmo presto liberi e porteremmo il cielo in terra. Gandhi. Dice il saggio. Il 100% dei colpi che non tiri le manchi. Il bel paese. Per secoli le cime più orientali delle Alpi sono state il confine naturale tra il mondo latino, quello germanico e quello slavo. Ne è simbolo il monte Lussari all'estremo nord-est dell'Italia in provincia di Udine con il suo pittoresco santuario. Secondo un'antica tradizione, il santuario ebbe origine nel 1360 in seguito ad una serie di fatti miracolosi, quando un pastore trovò le proprie pecore inginocchiate attorno ad una statuetta di una madonna col bambino. Il santuario è raggiungibile a piedi attraverso il suggestivo sentiero del pellegrino che si snoda tra i boschi della foresta di Tervisio oppure con la telecabina che parte da Camporosso. Grazie. 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 Grazie.